Il mondo del cinema ritorna in queste immagini, sempre del 1960, raccolte a Roma durante una delle tante manifestazioni contro la censura. Oltre al giovanissimo loi erano presenti tra gli altri i visconti, Germi, Pontecorvo, Zurlini, Antonioni, Pasolini. Il cinema è stato per lungo tempo la seconda industria del Lazio e nell'archivio non manca una ricca documentazione che riguarda i diversi aspetti di questo settore. Qui siamo sul set del Satiricon di Fellini, seguito durante la lavorazione quando ancora non erano di moda gli special televisivi. Appartiene alla storia del cinema e quindi in sostanza della città anche la documentazione sull'iniziativa di lotta dei cineasti italiani per la riforma della mostra di Venezia, di cui si riuscì alla fine a sostituire il vecchio statuto che risaliva al fascismo. Fu una lunga battaglia, non priva di scontri con la polizia, alla quale tra gli altri dette un contributo appassionato Cesare Zavattini, oggi presidente dell'archivio. Un altro tema sul quale l'archivio ha raccolto un'ampia documentazione è proprio quella della polizia, di cui attraverso le immagini conservate si...